Marcello, mi sei ancora te? Siete tutti? Non l'hai mai imbattuta. Franca deve battere il doppio perché non ha mai battuto. Cambio Franca. E' sempre chiuso, ci rimai da un piastra cala di tosto l'umurro. E' palo quanto foda mi da faccio in cuore. E' palo quanto foda mi da faccio in cuore. The grass was greener. The light was brightened. With friends surrounded. The night of wonder. How are we? How I wish you were here. We're just two lost souls swimming in a fishbowl. Year after year. Running over the same old ground. And how have we found The same old fears Wish you were here. Allora ragazzi, la missione si sta per concludere. Stiamo tornando al colle Bettaforca. Siamo partiti da Fraccai di Champoluc. Siamo andati alla Bettaforca. Siamo andati inappellando con gli sci in salita, senza impianti. Siamo scesi fino a Gressonei. Abbiamo preso l'impianto fino al gabiette. Abbiamo pellato fino ai salati. Siamo scesi sciando fino a Gressonei. Abbiamo preso gli impianti fino a Sant'Anna. E stiamo ripellando fino alla Bettaforca. Per poi sciare di nuovo fino a Champoluc. E missione compiuta. Andremo a girarci attorno al 2300 di dislivello salire. A scendere ovviamente molto di più. Non so quanti chilometri, tanti, totali, tanti. Non so quanti chilometri, tanti, 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 tanti.